La seconda giornata del microchip a Capaccio Pessum si è conclusa con oltre 50 cani registrati alla Nagrafe Canina, il tutto organizzato dall'associazione Diamoci una Zampa di Carmine Quaglia, un successo che spinge l'associazione a proseguire su questa strada. E ringraziano per la massima disponibilità il dirigente responsabile ASO, il dottore Gianfranco Masiello, ed ancora i dottori Nese, Taddeo e la dottoressa Schettini, rimandando alla terza edizione del microchip con il motto Abbandona l'indifferenza e Diamoci una Zampa. Grazie